Il campionato è ancora lontano e nessuno in questo momento può avere la certezza sulla categoria nella quale giocherà il Catania nella prossima stagione. In casa rossazzurra però si cerca di tornare a quella che normalità non sarà, ma assume le sembianze di una situazione sotto controllo. Ciò vale dal punto di vista amministrativo con Carmelo Milazzo che è riuscito a tempo di record a presentare tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie B e che la prossima settimana darà già il primo verdetto ufficiale sulla sua regolarità. In secondo luogo ma sempre importante vi è l'aspetto sportivo che porterà Pippo Bonanno a cedere presto diversi big che inevitabilmente dovranno lasciare Catania. In pochi conoscono già il proprio futuro, forse il solo Gillet che è ormai del Mechelen, mentre è tutta da valutare la trattativa che potrebbe segnare il passaggio di Spogli all'Empoli anche perché la Lazio vuole provare a capire se può portare il centrale argentino sull'altra sponda del Tevere. Nel frattempo si è aperta la bagarre anche per Martigno, con Giampaolo che ha messo pure il brasiliano nel mirino e il Cagliari che vorrebbe puntare su di lui per tornare in Serie A. Resta ancora poco decifrabile la posizione di Calaio e Rosina, che potrebbero anche valutare di rimanere qualora il Catania restasse tra i professionisti, mentre Maniere richiestissimo dalla Salernitana pronta a fare un assalto per l'ex capitano del Pescara già nelle prossime ore. Intanto si continua a lavorare per allestito un ritiro che consente ai giocatori di allenarsi regolarmente e presto arriverà la convocazione ufficiale per tutti i tesserati. Tutto in attesa che i potenziali acquidenti si facciano avanti per presentare l'offerta a Pulvidenti, che però non ha ancora ricevuto alcuna proposta e al momento resta sempre il proprietario della società rossa-azzurga.